Quest'Aula per l'ennesima volta ha votato contro la proposta di calendarizzare le unioni civili, togliendo anche la dizione dove è concluso in Commissione. Questa vicenda, che voi vi state strumentalmente rimpallando, perché non avete il coraggio, mentre per la riforma costituzionale si può avvenire in Aula senza relatore, si può avvenire bypassando la Commissione, per le unioni civili no. E adesso lei che cosa fa? L'ha trovata che è colpa degli emendamenti di SEL che non si faranno le unioni civili? Vi dovreste vergognare, perché non avete avuto mai in questi mesi il coraggio di venire in Aula, in cui ognuno si assumeva, come dice lei, le proprie responsabilità. Chiaro? Le proprie responsabilità. Ci sono gli atti, ci sono gli atti, ci sono i resoconti di tutto quello che noi abbiamo fatto. Vi siete rifiutati, avete votato ripetutamente per fare in modo che le unioni non arrivassero in Aula. E oggi è anche un po' da bambinesco il tentativo che fate. Vi dovreste voi assumere le vostre responsabilità. Noi ce le siamo sempre assunte e ce le assume come ce le siamo assunti nel fare la battaglia frontale contro questa pessima riforma. Grazie.